l'uomo penso ha cominciato a giocare con una pietra che rotolava e ha inventato la ruota quindi è tutto cominciato e comincia sempre con un gioco comincia con un esperimento con una cosa che non è mai successa prima ma proviamo a facciamo finta che e a quel punto ci sono anche le grandi invenzioni grandi opere d'arte tutto deriva dal gioco il gioco è proprio quel la specie di movimento che ci fa fare prum e ci spinge verso la fantasia verso il cielo